Con la stagione autunnale aumenta il numero di persone, soprattutto giovani e giovanissimi provenienti anche dalla provincia, che si riversa in centro, in particolare nelle zone della cosiddetta Movida, per assicurare un'adeguata cornice di sicurezza, visti i risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane, sono stati nuovamente predisposti mirati servizi di vigilanza e di ordine pubblico in attuazione delle direttive concordate in sede di Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica tra il prefetto di Catania e i vertici provinciali delle forze di polizia. Così, con ordinanza del questore, sono stati predisposti i moduli operativi interforze nelle aree del centro cittadino maggiormente interessate dal fenomeno. La zona di intervento è stata, in particolare, divisa in due diverse aree operative, dove insistono diversi pub, locali di somministrazione di alimenti e bevande, nonché consueti luoghi di ritrovo. Da un lato, l'area compresa tra le vie San Giuliano e Coppola e le piazze Bellini e Lupo. Dall'altra, l'area del Castello Ursino, con piazza Federico di Svevia e le vie circostanti. In entrambe le zone di intervento hanno operato equipaggi della Questura, della Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri, sia dei comandi territoriali che della Compagnia di Intervento Operativo del XII Regimento Sicilia, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che, coordinati da un funzionario di pubblica sicurezza, hanno vigilato sulle dinamiche collettive e, in particolare, intensificato l'attività di osservazione dei transiti nelle aree pedonali, al fine di prevenire comportamenti improntati all'illegalità, procedendo anche a posti di controllo e a verifiche amministrative nei confronti di attività insistenti nelle predette vie. Sia nella zona circostante piazza Bellini che sull'area intorno al Castello Ursino, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l'accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come lo spaccio di stupefacenti o l'abuso di alcolici tra i giovani. In piazza Bellini, inoltre, è stato posizionato il camper della Polizia Stradale, soprattutto per eseguire controlli del tasso alcolemico. Complessivamente, nel corso dei servizi, sono state controllate 112 persone e 42 veicoli, quasi tutti i motocicli, i cui conducenti, in molte circostanze, sono stati sanzionati. Infatti, sono state 47 complessivamente le violazioni di norme del Codice della Strada accertate nei confronti dei conducenti. Tra questi, a 3 è stata contestata la mancanza di assicurazione e sequestrato il mezzo, a 11 invece c'è stato contestato il mancato uso del casco e i loro motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, sospesi dalla circolazione altri 15 veicoli i cui conducenti non hanno mai conseguito la patente o non hanno sottoposto, entro i termini, il veicolo a revisione periodica. Controllati altresì 8 esercizi pubblici, tra i quali 5 sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico.